La riserva probabilmente sarà sciolta ad inizio della prossima settimana se non addirittura all'alba del nuovo anno. Fabrizio Di Stefano al momento resta il candidato presidente di regione per il raggruppamento civiche per l'Abruzzo che da tempo sta percorrendo il territorio per spiegare il suo programma. Dopo l'ufficializzazione di Marsiglio dal raggruppamento di Di Stefano si è sfilato azione politica di Gianluca Zelli confluito nella coalizione di centrodestra. Ora tutti gli occhi sono puntati su Di Stefano che sarà l'ago della bilancia per capire se il centrodestra andrà unito o diviso alle elezioni del prossimo 10 febbraio. È evidente che la scelta sarà motivata da una serie di riflessioni. Non a detta mia ma a detta un po' di tutti chiaramente questa eventuale candidatura in solitario condizionerebbe il risultato elettorale. Potrebbe forse essere controproducente due candidati del centrodestra? Questo è quello che da centrodestra mi dicono in tanti. Io dico che è una riflessione che avrebbero dovuto fare prima. Quindi lei va avanti? Io credo di sì. Ritengo che se c'è una motivazione che mi induce ancora alla riflessione è proprio quello che lei ha detto. Per il resto noi siamo l'unica forza che ha un programma. Nonostante gli altri sono tutti partiti strutturati nessuno ha fino adesso detto ha una riga di programma. Siamo consci e consapevoli che senza l'apporto dei partiti, ma è evidente che quell'apporto è determinante per una coalizione e certamente essere solo da soli non ci dà prospettive di chiudere vincendo questa sfida. Vorrò essere coerente con me stesso e con chi mi ha seguito e con chi continua a seguirmi. È vero che mi pare che sia una qualità oggi un po' in disuso, ma non fa niente. Sulla candidatura di Marsilio più critica alla posizione di Daniele Toto. Anche la sua civica nelle prossime ore dovrà decidere da che parte stare. No, io credo che il candidato Marsilio del centrodestra sia un candidato che lui è una persona molto autorevole, ma c'è qualche fragilità nella sua candidatura. Qualche fragilità che viene in evidenza sul fatto che è un candidato non del territorio e in secondo luogo la candidatura di Marsilio è una candidatura che ha all'interno dello schieramento un partito che ha il governo, che è la Lega, che qui invece si presenta in un'altra realtà. Quindi è una candidatura che nasce con delle criticità. Quindi lei da che parte sta? Dalla parte dell'Abruzzo e degli abruzzesi si è parlato molto di candidature, poco di programmi. Nessuno oggi ha posto in essere quello che sono i programmi. Oggi ci sarà tra l'altro una riunione delle liste che fanno capo a Fabrizio Di Stefano, quindi oggi alle 16 avremo senza dubbio una posizione.